Salve a tutti, sono Eri Ficballa e state guardando W.A. Salve a tutti, sono Eri Ficballa e state guardando W.A. Dovevi fare silenzio, hai fatto tutt'altro. Tutta la città ha sentito cos'è successo a te. Il pagamento rifletterà la tua negligenza. Chiudo il contratto. La città ha sentito cos'è successo a te. Il pagamento rifletterà la tua negligenza. La città ha sentito cos'è successo a te. Il pagamento riflettere. La città ha sentito cos'è successo a te. Il pagamento riflettere. 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 Il pagamento riflettere Grazie a tutti. 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 Un lavoro. un lavoro. a tutti. 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 tutti. su. su. tutti. tutti. a tutti. 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 ti manino per colazione. tutti. 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 . . . . . . . . Mocci, gavnica, mocci! Vieni, pap! Colpo, jok! Pricrò te! Peresarraggio! Uomo a terra! Il suo cromo è mio! E vado! Ti troveremo e ti faremo pezzettini! E' un'altra personale. Mi è venuta dire per farlo, senza valore! Tutti, perché non ho trovato? Non ho dovuto avere un喔. Perché un'altra personale è una persona che non fa bene cosa è che... ...il riesco a vivere la palla... ...e' un'altra persona che invece è andata... nemmeno e 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 bene bene sembra che la fortuna favorisca gli stupidi e ora ora andrò a chiedere un rimborso continuo a pensare a quella casa e a quel corrido era così buio e quelle strane e 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 vorrei un rimborso porca puttana amico stai bene dopo che hai avviato quel virtù hai cominciato a gliciare e risparmia il fiato mi hai fregato sapevi quello che facevi vuoi sapere cosa farò io ora eh ehi aspetta senti calmiamoci un secondo hai un'ora per andartene da night city e non tornare mai più oh cristo santissimo grazie sapevo che avresti chiudi quella cazzo di bocca non ho finito semmai rivedo la tua faccia di nuovo ti strappo le budella e le uso per impiccarti in tisi ora vedi di sparire a tutte le unità in zona abbiamo un problema urgente a westbrook ricevute centrale ma non hanno la sicurezza corporativa lì va bene andiamo il veicolo del sospetto è stato localizzato dettagli inviati non è il veice e ci scommerata e ma si ne ma non è A presto. NCPT, getta l'arma! A tutte le unità, il sospettato è ancora nei paraggi. A tutte le unità in zona, è stato ripristinato l'ordine, tornate in pattuglia. Allora, vogliamo parlare di me? Oh no! Oh no! Blue Moon, Red Man, Purple Box, sono le Ascret! Dopo del convosco Tokyo, Sydney e Parigi, arrivano proprio a casa nostra! Night City, aspettativi inaspettato! NCPT, ripristinato! E' un'altra cosa peggiore di questa cosa. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti